Oggi ti voglio parlare di questo strumento che ovviamente è uno strumento fondamentale perché tutti più o meno quotidianamente lo utilizziamo quando non ci sono le condizioni per esempio di lasciare il cane libero, quando l'ambiente non lo consente, quando non ci sono i presupposti, quindi il guinzaglio diventa quella costante quotidiana. Quello che voglio dirti innanzitutto rispetto al guinzaglio è che sicuramente il guinzaglio è il prodotto della relazione che hai con il cane e che la relazione è ovviamente influenzata da un'energia che si muove, cioè da uno scambio proprio di vibrazione, cioè di una cosa molto concreta, molto materica e quindi nel momento in cui io sono con il mio cane condiziono attraverso la mia energia la sua, quindi il suo stato d'essere. Questo però non riguarda solo uno spazio e cioè la condivisione di uno spazio fisico tra il cane e la persona, perché comunque il cane sente la nostra energia anche a distanza, quindi la maggior parte dei trattamenti energetici che io faccio per esempio o delle persone che accompagno anche a distanza vengono fatti appunto a distanza, cioè c'è una connessione energetica e in particolare nel cane e nel proprietario questo legame è costante e l'influenza è costante. È chiaro che nel momento in cui siamo con uno strumento come questo che va a legare il cane e la persona tutta questa energia, questa vibrazione, questo sentire si amplifica.